Leggi il disclaimer! Ehi, ma che diavolo è quello? Fatevi uscire, stupidi bastardi! Yow! Ballo di finanno in nave, fico, vero? Almeno i bianchi faranno vedere come si sanno muovere sul mare agitato. E dai, sono qua, lancia! Wow, fai schifo! È vero, Fred, fai schifo! Eh? Oh no! Fai schifo, Fred! Oh già, ci sono pirati a prua. Gheh, non bollatemi! Ok ragazzi, prendete quel che potete e non lasciate superstiti. Andiamo! Buon inizio, sarà una bella giornata. Dove sto andando? Oh, mi sento male! Ehi tu, perché non stai combattendo? Ho tipo sei anni, non so nemmeno che sta succedendo! Non è una scusa! Oh, violenza minorile! Fermi tutti! Scappiamo! Calma ragazzi, fermi! Calma ragazzi! E dai, datevi tutti una calmata! Oh, andiamo! Ma dove correte? Siamo su una nave! Che succede? Fatemi uscire! Ok, aspetta un secondo, ora ti aiuto. Non voglio andare in margine! Saccheggi il nostro saccheggio? Hai le palle ragazzo! Palle! Sì, ma non sono ancora scese! Palle! Oddio, l'ho ucciso! Non voglio tornare in prigione! Il mio culo non sopporterebbe gli abusi! Dovrò uccidere tutti i testimoni! Hai visto ragazzo? Il pancras gli è uscito dalle ghiandole lacrimali! Beh! Chiudi il becco ragazzo, abbiamo del lavoro da fare! Ehi ragazzina, dove credi di andare? Il mio punto debole, le palle, come lo sapevi? Non posso uccidere a stomaco vuoto! Ehm, chi sei tu esattamente? Io sono Monkey D. Luffy! Esatto! Il mio nome è Monkey! I miei genitori mi odiavano! Beh, il mio nome è Kobe e... Cody? Non mi interessa! E ora andiamo! I passeggeri non potranno mica uccidersi da soli, sai? Salve ragazzi! Credo che il mio culone abbia di nuovo sfondato il pavimento! Oh merda Cody! Sono ovunque! Non li fanno più come una volta! Sei una grassa troia! Questo è troppo! Forza Cody! Ce ne andiamo! Ma che diavolo? Prendi questo! E questo! E anche un po' di questo! Quarto ball! La base è mia! Cavoli, era terribile! Prendiamolo! Oh no! Me ne vado! Ma che... Ci siete, bastardi! Vittoria! Perché diamine l'hai fatto? Devi sapere una cosa su di me! Io sono fatto di gomma! E prima che tu lo chieda... Sì! Sì, lo è! Di che diavolo stai parlando? Mia madre era una provetta e mio padre un elastico di gomma! Fai i tuoi conti! Luffy, sei il ragazzo più strano che abbia mai conosciuto! Ragazzo? Ho 45 anni! Ma sembri averne 16! Prova tu ad avere rughe con un corpo di gomma! Adesso basta! Io sono di gomma e tu fai vomitare! Se tocchi il mio cappello ti faccio volare! Che succede ora? Oh no! Mi hanno trovato! Ma che cosa hai fatto di tanto terribile? Facevo parodie su internet! Oh mio Dio! Sei il peggior tipo di criminale! Ci si vede, Cody! No, aspetta! Vengo con te! Fa come vuoi, ragazzo! Io me ne vado! E così inizia la grande avventura delle storie di Non-Peace! E così inizia la grande avventura delle storie di Non-Peace! Grazie! Aspetta!